Noi non vogliamo imporre la nostra religione, espanderci, eccetera, vero? Cioè, allora ti dico, ma io sono stato in Egitto, sei timassi, c'è il suo portello per l'incidente, dove cazzo ha l'incirizzazione? Cioè, a me già stanno sul cazzo le campane, no? La domenica. Devo sottolineare l'incidente, la moschera, avete il cuore, hanno eminizzato i ebrei, hanno continuato i cristiani, adesso ci sono i musulmani, non hanno copiato questo. La navi ovviamente dice no, perché sai, non è che, 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 non è che.